Ben trovati all'approfondimento dalla Valtiberina, in primo piano questa sera parliamo di politica, ci spostiamo a Sansepolcro e lo facciamo con la minoranza in consiglio comunale e più specificatamente con il capogruppo del PDL Mario Venichella e il capogruppo di un borgo nuovo Fabrizio Innocenti, ben trovati e un devuto per voi quest'anno. Partiamo subito dal capogruppo del PDL Mario Venichella, c'è stata un'importante inaugurazione quella dell'ospedale di Sansepolcro a cui lei e tutta la giunta Polcri avete contribuito, i fondi chiaramente sono stati stanziati dalla precedente amministrazione, questo lo vogliamo ricordare. Certo, e quindi la regione ci dette 4 milioni e 800 mila euro come finanziamento legato alla firma del protocollo oramai storico del 2008, protocollo che è stato rispettato, la dialisi si prevedeva, a me dispiace anche perché sarebbe stata disponibile prima e avremmo potuto inaugurarla noi, si prevedeva per febbraio-marzo il completamento. È fisiologico il ritardo di qualche mese ma c'è da precisare perché lì ha lavorato molto bene la USL, in particolare il dottor Venturini, il responsabile dell'ospedale. Nel corso dei lavori si è pensato di rivedere tutto l'impianto freddo-caldo dell'ospedale perché serviva per la dialisi, era tutto da rimettere a posto e quindi erano previsti due mesi per questo lavoro. Quindi si è arricchito anche di questo importante servizio. Comunque la dialisi permetterà di, anche è un po' paradigmatica questa strada che si è intrapreso, perché servirà anche le popolazioni che abitano appunto a Castello, a San Giustino, perché la dialisi è attrezzata anche per coloro che essendo portatori di malattie infettive dovranno ricoverarsi nei due letti che appositamente, nelle due camere che sono appositamente dedicate a queste situazioni. E quindi la collaborazione che ci dovrà, l'integrazione che ci dovrà essere con Castello e in futuro inevitabile dovrà essere paritaria. Quindi noi per esempio siamo riusciti anche col pronto soccorso e altri servizi che abbiamo migliorato a ridurre di molto le fughe verso l'Umbria. Questa è una strategia importante che spero sarà continuata dall'amministrazione attuale perché la USL anche l'ha accettata. Essendo di frontiera i risparmi sono i risparmi provinciali e i risparmi regionali e quindi per il bilancio della USA e della regione della sanità è importante potenziare alcuni servizi. In tempi di crisi, se un'operazione fosse stata eseguita in questi giorni, sarebbe riuscita, Michela, con i tagli importanti che ha imposto il governo centrale? Ora è chiaro che l'impostazione, io devo riconoscere la competenza, la professionalità, la serietà del direttore Desideri e mi auguro che rimanga anche nei prossimi anni a dirigere la USL di Arezzo. E quindi si dice sempre che la riduzione delle risorse non deve tradursi in una riduzione dei servizi. È chiaro che talvolta laddove i servizi sono già al meglio, questo non può succedere. Però molti servizi possono essere migliorati, riorganizzati e quindi si fa di necessità virtù. Certamente un finanziamento nelle strutture che fu promesso e fu realizzato dall'ora assessore alla sanità, mi ricordo i viaggi a Firenze, Rossi, e questo forse oggi sarebbe più difficile perché si tratta di una somma abbastanza consistente, 4 milioni, quasi 5 milioni. Fabrizio Innocenti, si è tanto parlato in questi anni di quello che non ha fatto il centro-destra e magari si è poco rimarcato effettivamente quello che ha fatto poi. Ma è chiaro che fa parte dell'essere umano cercare sempre quello che non ha, per cui la critica bisogna prenderla così come viene. E l'importante è essere sereni, tranquilli e coscienti di quello che si è fatto. Io sicuramente ho perso la mia battaglia sindaco, probabilmente perché sono stato molto sincero, molto franco con tutti e perché a livello di urbanistica in questi 5 anni, nei 5 anni scorsi mi sono comportato in maniera equidistante o come dico io, equivicino a tutti perché chiunque vada in comune ha lo stesso diritto dei famosi santoni di campagna. Per cui il fatto che si critichi fa parte delle cose di tutti i giorni. Certamente è che chi adesso è al comando aveva preannunciato grandi sfacelli, grandi manovre, grandi reattività, grandi cose, ma sono passati 4 mesi, è vero che è caldo, è stato un bel caldo anche oggi, siamo in ottobre ed è caldissimo. Con il caldo si lavora meno, però insomma qualcosa in più me lo sarei aspettato. Che cosa c'è che secondo lei non va in questo primo periodo di amministrazione frullale? Io come ho detto a un Consiglio Comunitale sono una persona tollerante e ragionevole, ho detto ancora è troppo presto per criticare, però il buongiorno si vedrà dal mattino. L'incarico al regolamento urbanistico doveva essere una cosa immediata del giorno dopo, perché subito il regolamento urbanistico, subito ancora hanno stanziato i soldi nell'ultimo Consiglio, ma non si parla di incarico. Tante altre cose vengono lasciate un po' così, però devo anche dire che prendere in mano il Comune di Sansepolcro, anche se da un sindaco esperto come Frullani politicamente, ma con una giunta nuova completamente come eravamo noi, credo che un po' di tempo per prendere misure sia necessario. In ogni caso noi crediamo che questo centro-sinistra sia molto disunito, credo anche a livello di calorezione che ha appoggiato la Frullani, già ci sono delle frange che sono uscite perché qualcuno è andato all'Api, io per scherzo dico ora forse qualcuno va anche all'Aesso perché sennò si offendono, come battuta perché tanto ci conosciamo tutti e poi devo dire che noi siamo l'opposizione, ma siamo il 50% dell'opposizione, siamo insieme a quella frangia più innovativa del PD, più che frangia con un gruppo di ragazzi che speriamo con i quali, come hanno preannunciato, di poter portare avanti tutti quei temi di interesse della gente, non interessi di pochi. Molto brevemente poi cercheremo di fare una domanda a Menichella sul problema caserma di Carabini di San Sepolcro. Secondo lei questa uscita di alcuni fondatori del PD a San Sepolcro è un sintomo di frizioni interne per un'azione politica che stenta a decollare? Io ho letto questi giorni appunto che alcuni più giovani di quel PD che ha appoggiato Frullani che si dimette contro un consigliere perché non riconoscono il ruolo del capogruppo Michele Boncompagni, che non può essere il segretario, non può essere il capogruppo in comune o non può svolgere l'attività amministrativa. Credo che sia questa veramente una motivazione molto banale che comunque sta a significare appunto questo grande periodo di lotte intestine, cioè qui non si capisce più qual è il PD vero, quello giovane, quello vecchio, insomma staremo a vedere, vigileremo con attenzione. Siamo quasi al termine. Menichella, c'è un problema a caserma di San Sepolcro con il possibile e non auspicabile declassamento? Certo, il primo che viene in mente è che avremo rispetto al problema anche, non dico di sicurezza, anche se negli ultimi tempi qualche notizia ci preoccupa, ma di un po' di ordine pubblico, di schiamazzi, il problema del centro storico nelle serate del fine settimana per risolvere il quale è indispensabile proprio l'opera dei carabinieri. Del resto non c'è mai mancata, mi ricordo soprattutto nell'ambito del sociale, anche singoli episodi di una certa gravità relativa anche a occupazioni, occupazioni di, per fortuna sono rari, di immobili del patrimonio pubblico delle case popolari. C'è stata sempre, e poi anche in tanti casi singoli, c'è sempre stata nel mio assessorato al sociale una, direi, quotidiana collaborazione con i carabinieri. Casi anche sempre difficili da risolvere, però che hanno visto una disponibilità piena di questi uomini. Bene, il tempo a nostra disposizione è terminato, io ringrazio il capogruppo della PDL in consiglio comunale a Sansepolcro Mario Menichella, il capogruppo di Borgo Nuovo Fabrizio Innocenti con il primo piano per questa sera è tutto, buon proseguimento con i nostri programmi.